E benvenuti a questo speciale appuntamento con la tecnologia oltre che con la teologia. Un saluto cordiale quindi da questa terra lontana e assolata che è il Brasile, in particolare lo stato di Bahia, nel quale mi trovo, terra della felicità, come ottimisticamente chiamata, dai suoi abitanti. Terra da felicità. Bene, io sono lieto della continuità degli incontri promossi dall'amico e collaboratore Claudio e sono lieto di essere presente in questa forma speciale, tecnologicamente avanzata. Al fine, secondo la richiesta di Claudio, di offrire un cenno, uno spunto di riflessione che in qualche modo abbia attinenza con il tema del convegno. Tutto questo nel tempo record di dieci minuti. In particolare mi chiedeva di portare riferimento a quel testo biblico che ha come protagonista il profeta Elia e che riferisce di una teofania che nei suoi termini descrittivi passa dal vento, un vento cagliardo, un vento forte, al terremoto, al fuoco, finendo poi in quella che sarebbe una brezza, una brezza leggera. Una brezza leggera, quindi un punto d'arrivo forse un po' inaspettato a date le premesse e peraltro credo anche deludente. Direi che nei pochi minuti a disposizione io mi limiterei a segnalare un particolare e questo particolare è che la brezza non viene dal testo biblico. Non c'è brezza nel testo biblico. Questo concetto viene dalle traduzioni, viene dai traduttori, viene dalle buone intenzioni dei traduttori che al fine di avvicinare il testo al lettore rendendolo più facile e comprensibile finiscono per cambiarlo, per questa buona ragione di adattarlo e ahimè viene quindi perduto il significato originale del termine. Qual è il concetto, qual è la parola che è presente nel testo ebraico? Bene, questa parola in ebraico è kol che significa letteralmente voce. La versione greca di fatto traduce con fonè. Dunque, per quanti hanno seguito anche un po' i nostri precedenti incontri è il caso di dire ci risiamo. Ci risiamo perché su quello stesso monte, il monte Oreb, denominato il monte di Elohim quindi un monte che ha un particolare carattere teofanico già abbiamo incontrato la rivelazione del nome sul rovetto ardente e abbiamo indicato, abbiamo riconosciuto peraltro il concetto di fonè, di voce come quel concetto che più di ogni altro presenta il valore interpretativo dell'espressione del nome divino ossia nel ebraico eie, asher eie, in italiano sono quelli che sono. Bene, quindi ahimè non ci siamo con la traduzione e ahimè questo è un caso che non è per nulla isolato. Direi proprio che il concetto di voce tra virgolette è un concetto vittima dei traduttori nel senso che sembra essere ben poco riconosciuto e quindi riportato con fedeltà in tutta la sua pregnanza teologica. Peraltro mi pare che anche nei brevissimi incontri avuti in passato mi pare siamo riusciti un po' a porre una puntualizzazione secondo la quale il concetto di fonè, di voce è il concetto fondamentale della pneumatologia così come il concetto di parola è il concetto fondamentale della cristologia. Questo non è poco. E a proposito di pneumatologia guarda caso c'è un evento che avviene proprio domani qui in Salvador, domani e dopo domani è un congresso bagnano di parapsicologia e scienze della religione nel quale mi è stato chiesto di proporre una riflessione sul tema di rapporto fra psicologia e pneumatologia. Sì, io credo che è utile questa puntualizzazione anche perché biblicamente risulta direi abbastanza chiara c'è una chiara distinzione fra psiche e pneuma fra anima e spirito e questo è di grande vantaggio nel discernimento perché i nostri testi generalmente così lasciano un po' desiderare sembra che il campo semantico dell'uno sia molto vicino, se non comune, a quello dell'altro e il testo biblico ci aiuta molto nella questione di discernimento tra ciò che è il pneuma e ciò che è la psiche. La nozione di pneumatologia purtroppo è spesso così mal interpretata oppure viene scambiata semplicemente con la pneumologia che è tutt'altra cosa è quella disciplina medica che si occupa dei polmoni e più delle volte la risposta che peraltro io ho sentito, ho ricevuto che cos'è la pneumatologia? Ah, la pneumatologia è la teologia dello Spirito Santo e che, ahimè, non è la definizione più adeguata perché, prima di tutto, è univocamente teologica e secondo luogo è limitatamente relativa all'attributo santo una tale pneumatologia dovrebbe essere una pneumatoaghiologia che non c'è di fatto quindi avremo l'opportunità di entrare un po' in questo discernimento e in modo particolare il mio proposito è di richiamare l'attenzione sul testo della prima lettera ai Tessalonicesi 5.23 nel quale San Paolo riferisce e riporta dell'essere nella sua completezza l'essere tutto nella sua completezza e che cosa dice di questo essere nella completezza? lui dice, bene, questo essere è pneumatologia, psiche e soma questa completezza dell'essere consta di tre, diciamo così, componenti fondamentali pneumatologia, psiche e anima, soma e corpo peraltro, antepone a tutti il prema pneumatologia, psiche e poi il corpo dunque, il pneumatologia, per dirlo in modo molto semplice è una componente fondamentale dell'essere umano dell'essere antropologico non è solo categoria teologica sì, Gesù con la Samaritana, cosa dice? pneumatia e os è Dio e Spirito tutto bene, non chiederebbe solo che biblicamente la questione non è limitatamente relativa a Dio lo Spirito è anche uno Spirito dell'uomo e qui avremo l'opportunità, credo, di là, più che di qua di esaminare i testi biblici che appunto riferiscono con chiarezza questa identità pneumatica dell'uomo che è in questo senso comune a Dio lo Spirito è un termine di identità comune dell'uomo Dio e non è poco bene, quindi per concludere la pneumatologia è in effetti a tutti gli effetti una disciplina antropologica oltre che teologica e questo meriterebbe direi oggi in particolare una rinnovata maggiore attenzione ahimè il mio tempo vedo che sta per scadere quindi direi che questo e altro potremmo eventualmente riprendere negli appuntamenti della prossima stagione primaverile-estiva grazie all'impegno e alla collaborazione del nostro amico Claudio a meno l'estiva